Ma che boh, ma tu hai fatto sempre il cameriere? Sì, perché? No, dico perché uno sveglio come te potrebbe cercare pure di puntare più in alto, no? Ah, tipo cosa? Tipo cosa, tipo per esempio aprire un'azienda. Un'azienda? Un'azienda, certo. In Italia? Ma oggi aprire un'azienda in Italia ci vogliono appoggi politici. Ah sì? Eh. E io secondo te che c'è sto a fare qua? Posso essere indiscreto? Ma lei politicamente da che parte sta? E di destra? Di destra. No? Di sinistra? Di sinistra. Antonio, di destra, di sinistra. Ma quando? Ma non esiste più né destra né sinistra. Sono concetti vecchi, passati, dai. No, adesso l'importante è starci. Facilitare. Facilitare molto. Facilitare. Facilitare. Sento com'è cambiata la politica oggi, eh?